Riapre a Mistretta il maneggio comunale, una struttura ben curata, rimasta chiusa dal novembre 2017 a causa della scadenza della concessione. La Commissione di Gara, che ha seguito il procedimento relativo all'affidamento per la gestione del maneggio comunale, ha deciso di consegnarlo ad una delle due associazioni locali che hanno partecipato alla gara bandita dal Comune, restituendo di fatto alla città e ai cittadini l'eccellente centro di equitazione dalla parvenza sportiva, ma anche dal percorso riabilitativo proposto a soggetti con problemi fisici, psichici, cognitivi, comportamentali e sociali. Dal novembre del 2017 la struttura in Contrada Neviera è rimasta abbandonata a se stessa. Dopo la scadenza della Convenzione, il Comune di Mistretta pubblica una manifestazione di interesse per l'assegnazione, in uso temporaneo, della struttura comunale. Entro la scadenza dei termini previsti dall'avviso pubblico rispondono l'associazione uscente Stella dei Nebrodi e l'altra associazione locale Equisporta Mastra, ma tutto sembra fermarsi. Si torna a parlare di maneggio comunale e di riassegnazione dello stesso solo quattro mesi dopo, in una seduta di civico consesso, quando il Consiglio Comunale assegna i tre impianti sportivi di proprietà dell'ente a delle associazioni. Un affidamento a quanto pare irregolare, tant'è vero che la Commissione straordinaria revoca l'approvazione dello schema di convenzione per la gestione del maneggio comunale, che ne disponeva l'affidamento della gestione a due associazioni locali richiedenti, ritenendo il deliberato del Consiglio Comunale illegittimo. Oggi il maneggio è stato nuovamente affidato all'associazione Stella dei Nebrodi e i cittadini appassionati di equitazione potranno presto ritornare a praticare il loro sport preferito.